ragazzi ciao a tutte eccomi ancora qua per parlare della ditta la femme vi avevo già fatto uno scorso video questo dovrebbe essere una specie di spacchettamento ma io non resistito quindi ho già aperto il pacco che gentilmente mi hanno omaggiato quindi le ringrazio e vi faccio vedere quello che mi hanno mandato allora qui si tratta della linea semi permanente non stop color allora vi faccio vedere cosa mi hanno mandato quindi mi hanno mandato in il prep quindi loro de idratante mi hanno mandato una base del semi permanente ovviamente è un top coat poi mi hanno inviato tre colori della linea della collezione autunno meravigliosi cioè veramente fantastici ragazze apro vabbè l'ho scritto sopra la tip ma vi voglio dire anche i nomi e allora quindi mi hanno mandato l'h 194 considerate come vi ho già detto nello scorso video che questo è proprio una vera goccia di colore quindi vedete realmente com'è il colore all'interno senza doverlo aprire quindi è molto anche più semplice aprire il cassetto vedere subito il colore senza stare a guardare più di tanto il numero quindi il 194 che è questo colore vi leggete il nome perché io all'inglese ragazze se no vi dico un mucchio di stupidate lovely evening si dirà così comunque va bene è questo e eccolo qua sulla tip meraviglioso ragazzi veramente c'è un pelo veramente meraviglioso fantastico cioè hanno una coprenza unica cioè questo qui bastava anche con una passata poi se ne diamo due comunque sia per per farlo più intenso ma è meraviglioso poi mi hanno mandato l'h 196 che ha questo nome cranberry tea 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 questo ed eccolo qua qui sembra molto più acceso in fotocamera ma è un colore bello qui sembra anche rosso non rende niente questo colore in video ma se vi capita prendetelo perché è stupendo veramente stupendo e infine l'h 192 che è questo qua autun li aves questo qua se si dice così ed eccolo qua un bellissimo verde molto autunnale bello 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 ok vi dico alcune caratteristiche di questi semi permanenti allora lo leggo direttamente così almeno non sbaglio e vi dico tutto ciò allora lo smalto semi permanenti professional non stop color brevettato la femme professional distribuito da alias cosmetics quindi poi vi metterò il link tutti sotto nell'info box tranquille allora garantisce per oltre 21 giorni un'eccellente durata una brillantezza impeccabile da una protezione totale delle unghie naturali facilissimo da stendere autolivellante polimerizza sia il lampada uv in 120 secondi che il led in 30 barra 45 secondi quello vedete voi ovviamente magari un colore più scuro scuro lasciatelo un pochino di più lo smalto semi permanente non stop color è disponibile in oltre 200 colori dal finish classico c'è il glitter perlato fluo metallizzato e termico inoltre grazie a diversi gradi di coprenza utilizzando la tecnica del layering e già questo ve l'avevo detto nello scorso video potrà creare infinite combinazioni di colore applicando due strade di smalto diverso coprente e semi coprente allora poi continuando dice non stop color è stato studiato per essere combinabili con tutti i sistemi di ricostruzione unghie la femme gel acrilico acrilico ad immersione quindi tutto ciò che ha per quanto riguarda la ditta la femme allora se combinato con l'acrilico ad immersione easy design si ottiene l'esclusivo semi permanente sistema ultra permanente il risultato di questa perfetta sinergia è il prolungamento della normale durata del semi permanente e una sua totale protezione per oltre quattro settimane poi dice proseguendo la speciale formulazione di questo smalto semi permanente si lega perfettamente alla superficie della della piastrina naturale e ne uniforma la struttura rinforzando e proteggendo le unghie naturali la polimizzazione conferisce una durezza e quindi una durata di oltre tre settimane e una fortissima resistenza graffie e sveccature i colori della linea non stop color hanno un odore gradevole quindi fantastico che rende piacevole la loro applicazione la linea non stop color è sicura per le tue unghie e la tua pelle perché acid free ovvero privo di sostanze nocive col come la forma aldeide resina formaldeide ve lo faccio leggere così almeno non sbaglio nomi eccoli qua vedete vedete mettiamo anche a fuoco eccola qua poi lo speciale top della linea non stop color grazie alla sua nuova formulazione ultra eye gloss dona al colore una brillantezza e una lucidità scintillante non stop color è dotato di un tampo speciale che racchiude una vera goccia di colore come vi dicevo prima e poi dice non stop color si rimuove facilmente in solo 10 minuti grazie al gel remover che provoca l'osalitamento del prodotto e previene l'eccessiva di idratazione della pelle e delle unghie naturali grazie all'estratto di l'anolina quindi poi questo qui lo voglio anche prendere per quanto riguarda il gel remover e queste sono le caratteristiche del semi permanente non stop color ripeto non stop color la femme distribuito da alias cosmetics ripeto vi metto tutto nell'info box ah una cosa molto carina che mi hanno mandato è anche questo questa tovagliettina bellissima che troverete sul sito anche di questa vi metto tutto nell'info box considerate che comunque sia nel primo ordine registrandovi al sito avete uno sconto del 10% quindi date un'occhiata perché veramente ci sono cose veramente carine poi è una ditta molto molto valida io con l'acrilica di immersione mi sono trovata da dio veramente da dio e in più mi hanno mandato anche questo effetto uscito nuovo sul loro sito ce ne sono diverse questo qui praticamente è il galaxy camaleon flaker se si scrive se si dice così numero 05 ed è un bellissimo effetto sono scagliette colorate cangianti da applicare su tutta l'unghia a effetto specchio quindi su una superficie senza dispersione o a scagliettine sul colore vi faccio vedere che l'ho già applicata per farvi per mostrarvi vedete o fate proprio strusciando l'effetto specchio o sul colore in questo caso ho usato quello della nuova collezione autunno per fare questo effetto scagliette che è bellissimo molto molto bellissimo comunque tanto questo era per presentarvi quello che mi hanno gentilmente inviato e successivamente vi farò un video sia sull'applicazione di questa polvere galaxy sia sull'applicazione del semi permanente no stock color la femme vi mando un bacio e al prossimo video ciao